È stato da poco eletto il nuovo direttivo dell'associazione Arco Noi, che gestisce l'oratorio di Arco, con l'obiettivo di farlo tornare ad essere un punto di aggregazione importante per giovani e famiglie e per questo vuole arricchirsi di eventi e manifestazioni sociali e culturali. Torna quindi il cinema e la rassegna di teatro dialettale che sta facendo il tutto esaurito. Ospiterà inoltre un concorso con film di montagna ed avventura. L'associazione Noi Oratorio Arco ha da poco rinnovato le cariche del direttivo che lo compone, che attualmente è composto da queste persone. Righi Franco, che sono io, che è stato confermato presidente, vicepresidente Jacopo Spezia, segretario Marco Bortolotti, responsabile degli tesseramenti Anna Uez, tesoriere Michele Maroni, consiglieri Giovanni Martinelli e Francesca Proc, consigliere spirituale Don Walter Sommavilla. Come punti ci siamo dati alcune prospettive, ad esempio la ripartenza dell'auditorium, dove già è in atto una rassegna teatrale con quattro domeniche, quattro sabati, dove vengono le varie compagnie del Trentino. Abbiamo aderito anche a un'iniziativa dell'associazione Noi Trento, dove ci sono quattro film di Cineforum che parlano della forza fragile e dopo da lì pensiamo di dare la ripartenza generale con proiezioni nel fine settimana per i bambini e soprattutto anche le famiglie. Ovviamente tutte queste attività andranno a affiancarsi a quelle che già esistono, che sono i Gresti, i Campeggi, il Carnevale e gli Oratori Aperti. Inoltre come obiettivo ci siamo anche posti di collaborare con le associazioni che ci sono sul territorio o comunque come proposte che vengono da persone che riteniamo valide. Ad esempio una di queste, come prima collaborazione, abbiamo pensato di aderire a questa iniziativa, di questo torneo che è chiamato La Sfida, dove saranno prietati dei filmati con alcune persone che racconteranno questi filmati e si sfideranno a coppie. Ogni sera ci sarà un eliminato fino ad arrivare a quattro semifinalisti e poi alla fine arrivare alla finale di marzo dove si decreterà il vincitore.